ciao a tutte ragazze eccomi in un nuovo video questa volta vi propongo una nail art una nail art veramente molto semplice natalizia allora iniziamo con la stesura del del bianco lattiginoso in realtà la tip già è bianca anche se è troppo bianca quindi comunque voglio passare uno strato di bianco lattiginoso e questo è quello di passione unghie è il colore non è il costruttore una passata ovviamente ci sono sempre i peluchetti dentro quindi ci vuole eccolo che lo tolgo faccio la registrazione perché ho provato a farlo in diretta ma tra bambini animali è impossibile allora ho messo il lampada ed ecco qui allora adesso con questo colore di passione unghie star flash che è uno che ho acquistato adesso proprio recentemente che è un dorato facciamo un disegno allora voi in realtà adesso o potete passare il il lucido matt oppure fate prima il disegno e poi passate il lucido matt insomma come volete è indifferente io ho fatto così allora metto un pochino proprio molto in modo molto semplice poggiandolo con il pennello tanto il disegno è molto facile adesso vedrete un po più abbondante per poter poi fare bene gli angoli e poi con il pennello sempre di passione unghie questo è il liner se non erro sì che è un pochino più grosso faccio bene i contorni e stavo veramente molto scomoda ragazze e quindi per permettere le luci in posizione che poteste vedere che fosse abbastanza luminoso e quindi sono uscita un pochino fuori campo però ecco si vede che sto disegnando un triangolo e diciamo che rappresenta un albero di natale ho fatto molto molto stilizzato questo alberello però diciamo che è un anelarte molto veloce carina ecco qui un triangolino potete farlo anche più grande anzi forse veniva meglio l'avrei dovuto fare anche più grande ecco qui adesso di nuovo in lampada 30 secondi rieccovi ho evitato tutti i pezzi d'attesa insomma per quando sta in lampada ecco qui adesso prendo un lucido opaco non di passione unghie quindi non ve l'ho fatto vedere qual è comunque con un lucido palco lo passo su tutta la tip di nuovo in lampada eccoci qua ora con un finish lucido senza dispersione anche questo matte era senza dispersione premetto per lei nell'art si lavora molto meglio con questi e faccio giusto il contorno del dell'alberello e così questo rimane lucido con la tip invece che si vede questo effetto bianco opaco che veramente dal video mi dispiace che non rende ma è molto carino vedere questo bianco opaco e solo l'alberello lucido adesso che andiamo a fare io uso questo si chiama white snow è di emotion nails perché il pure white di passione unghie mi ha terminato e quindi io avevo questo usato questo quindi con questo andiamo a fare proprio due due decorini semplicissimi ecco qui facciamo queste striscette un po ondulate una e due per questo vi dico che veniva meglio se se l'alberello era un pochino più grande che era un po più marcato invece l'ho fatto un po piccolino va bene poi dipende anche dalla grandezza dell'unghia su cui lo andiamo a disegnare a allora queste sono due righine e poi facciamo dei puntini che poi diventeranno delle stelline ecco dei puntini adesso prendo un altro pennello di passione unghie che è quello più sottile oddio come si chiama mi ricordo un eyeliner l'altro extra fine mi sembra e praticamente in quei puntini tiro da quattro parti diciamo delle crocette così diventano delle dei fiocchetti luminosi in realtà con questo pennello rimane molto molto sottile ma ho dovuto fare i puntini piccoli proprio perché non è che entravano molto bene mentre l'alberello però se fate il disegno più grande che prende insomma più parte dell'unghia vengono sicuramente meglio e qui ecco sono uscita fuori fuori campo ecco qua e non ho polimerizzato le striscette che ho fatto prima quindi è tutto con il colore liquido ancora e adesso che andiamo a fare come vedete nel sottofondo ci sono vari glitter perché ero un po indecisa sul da farsi anno ecco mi ero dimenticata in alto facciamo un bel fiocchetto in cima all'albero ecco qua facciamo un triangolino a destra e lo riempiamo con il colore ripeto questo colore bianco è un colore senza dispersione e non ho polimerizzato il disegnino ho fatto nell'albero quindi ancora tutto da da fissare facciamo quest'altro triangolino anche dall'altro lato faccio un po grandino mi dispiace che bianco su bianco non si nota perché la tip è molto bianca questa quindi non si nota moltissimo però se facciamo come base dell'unghia anziché o bianco lattiginoso su una base insomma di un costruttore trasparente oppure con con un costruttore cover ci va insomma si vede e ci sta molto bene anche io avevo queste tip ecco qui quindi disegnato il fiocchetto e ora passiamo ai glitterini allora io ce ne ho diversi sul tono del bianco questo di passione unghie che è il white però sono molto grosse quindi non non mi piaceva l'effetto le avevo prese diverse e alla fine ho scelto una di queste due allora queste qui sono tutte e due i passioni sembrano simili in realtà no una una è fiji e l'altra è sugar e alla fine ho usato questo sugar che è più bianca ha meno riflessi perlati e mi piaceva di più perché dà più l'effetto neve adesso ve la faccio vedere vedete che bella è veramente molto sottile una polvere non so se sta ancora in catalogo spero di sì perché è veramente veramente bella per fare questo effetto zucchero soprattutto effetto neve per l'inverno adesso lo metto sopra i decori fatti con bianco con il bianco con questo piccolissimo minuscolo cucchiaino però è piccolino ma va veramente bene dove deve andare insomma ecco qua faccio tutto con delicatezza perché non mi piace quando tutti i glitter volano per tutto il tavolo anche perché come vi ho detto non so se ancora esiste questo questo glitter di passione unghia che è veramente bello ecco qui ora vado di nuovo in lampada rieccolo e con un pennellino a ventaglio tolgo l'eccesso del del glitter così viene l'effetto zucchero ecco qui adesso si vede meglio il fiocchetto ecco sempre su tono non si vede proprio benissimo e ora l'ultimo l'ultima chicca finale ecco qui vado a prendere queste sfere di metallo che ce l'ho oro argento ce l'ho anche di altre colorazioni prendo la misura 1,5 ce l'ho anche di passione unghie ma ce le ho argentate non le avevo dorate queste le avevo prese mi sembra su aliexpress guardate non mi ricordo con il gel colla uso una puntina proprio piccolissima di gel colla vedete una gocciolina la vado a posizionare in mezzo al nostro fiocchetto ecco qui senza fare filamenti perché se no va sull'effetto zucchero e rimane brutto e adesso con questo pennellino in silicone sporco di gel colla ne vado a prelevare una eccola qua non si vede vabbè è piccolissima ecco e la andiamo a posizionare proprio qui sopra al centro ecco qua non è bene a fuoco però adesso insomma si dovrebbe vedere meglio eccola aggiustiamo un attimino che si era un po' spostata mettiamola bene al centro ecco qua e adesso andiamo in lampada nuovamente per 60 secondi questa volta perché il gel colla polimerizza in 60 secondi ecco qui la nostra tip conclusa allora il video sembra un po' lunghetto in realtà è veramente facile farlo mi sono dilungata un po' perché stavo messa veramente scomoda comunque è una nail art molto calina se la rifate commentatemelo taggatemi e fatemi sapere come vi è avvenuta o se avete pensato a delle altre varianti allora questa è la prima nail art natalizia ci rivedremo in altri video con questo tema un bacione e buona serata a tutte ciao